Baffutissimi! Benvenuti in questo nuovissimo unboxing di Mario Bros... Wonder? No. Questa è una piccola borraccia che ho ricevuto in omaggio con il preordine del gioco. Ma passiamo al succo dell'unboxing. Eccolo qua, signori. Un gioco quanto semplice, ma molto importante per la storia di Mario e di Nintendo. Anche perché questo gioco non solo dà una ventata di novità rispetto alla solita serie New, che ormai stava iniziando ad invecchiare anche Maluccio, ma è molto importante perché hanno cambiato la voce di Mario. Quindi questo sarà il primo gioco in cui non sentiremo il tanto amato Chas Martinet nei panni di Mario. Ma nonostante tutto questo, Mario Wonder ha le carte in regola per essere un gioco davvero fantastico. Anche perché il doppiaggio di Mario non è poi così male. Quindi apriamo. Eccolo qua, a proposito di mondo di gioco, la mappa dei mondi. Così sembra molto bello. Ora dobbiamo solo vederla all'interno ovviamente come sono strutturati i livelli. Quindi Mario Wonder va giocato. E vi aspetto nella serie di gameplay e di guide che farò riguardanti al gioco. Quindi se avete bisogno di aiuto, non vi preoccupate, ci saranno le guide. Ovviamente fatemi sapere se anche voi avete acquistato Mario Bros. Wonder e ditemi quali sono le vostre prime impressioni sul gioco. Ovviamente senza spoiler, eh? Io e tutti quanti Luigi Studios vi ringraziamo. Non dimenticate di lasciare un baffutissimo like ed attivare la campanellina delle notifiche. E noi ci vediamo al prossimo baffutissimo video.